allora ragazzi buonasera eccomi qui con queste due tip stasera vi farò vedere come ho realizzato le farfalline in maniera molto molto semplice chi di voi mi segue anche su instagram avrà visto il reel e siccome è piaciuto parecchio ho deciso di farne un video per il canale youtube dove la spiegazione è un pochettino più approfondita allora partiamo innanzitutto da queste tip ok io ho scelto praticamente il colore 102 di vanessa steso in due strati che questo nude beige molto chiaro e sopra ho applicato il top velour di neonail come sapete se avete visto il video precedente top velour velour è un top mat con dispersione quindi praticamente va pulita la dispersione con il cleanser e questo è il risultato ed è un risultato veramente ottimo perché uso il top velour e non uso invece un top come quello di estrosa o di la fam senza dispersione perché come vi ho detto quando vado a fare i decori sulle unghie preferisco avere la possibilità di pulire eventuali sbaffi o sbaglio errori con il cleanser e quindi questo top me lo consente perché è meno poroso dei top matt senza dispersione e quindi i colori o i decori non si impastano e si riesce a pulire l'errore senza impastare tutto quanto partiamo con il fucsia allora immergete bene il pennello e prendete uno strato piuttosto abbondante dopo la forma dell'ala la potete modificare anche dopo quando passerete il gel paint nero ok andiamo un po abbondantini su questo colore perché poi ce lo troviamo ce lo dobbiamo trovare stricciato fino fino in fondo quindi facciamo così poi scarichiamo il colore nel pad qui ogni tanto abbiamo degli ospiti inattesi e neanche desiderati moscerini che d'estate alliedano mi tengono compagnia mentre faccio video adesso prendiamo questo arancio fluo bellissimo corallo fluo che facciamo un'altra bella righetta sempre come avevo detto abbondante perché poi appunto deve riuscire ad arrivare fino in fondo il colore no facciamo così scarichiamo il pennello lo puliamo in maniera approssimativa non state lì a pulirlo anche perché dovendo prendere tanto colore non serve insomma che che sia perfettamente pulito anche perché poi quando striciate poi i colori un po si mescolano e quindi viene qui ho fatto un piccolo sbaffetto ma non non mi preoccupo più di tanto ne metto un altro po poi arrivato con il fucsia una striccettina cicciottella adesso riproponiamo il fluo scusate ecco qua con questo concludiamo e adesso facciamo la cosa più divertente cioè prendere il pennello e strisciare i colori partiamo da qui e tiriamo puliamo il nostro colore e riprendiamo da qui e strisciano giù ogni volta lo puliamo sul nostro pad o su un pezzettino discotex dove vi pare a voi vedete il fatto che il colore sia abbondante permette di fare questo questo motivo e permette anche di fare un lavoro diciamo così carino senza grosse doti diciamo di disegnatrici perché altrimenti ci sono dei disegni con le farfalle stupendi guardate che carino io lo trovo delizioso ok a me piace quindi ora lo fermo in lampada ecco qua adesso partiamo con la parte sottostante allora sotto se vogliamo possiamo anche invertire i colori e quindi che ne so partire direttamente con il fluo questa parte qui possiamo fare come vogliamo no così puliamo sul nostro padre prendiamo il fucsia importante ragazze appunto che questi colori siano piuttosto pieni ok perché se poi si confondono non permettono di fare insomma il giochino con con la strisciata e quindi finisce poi che viene un unico colore si confondono i colori non rimangono ben ben definiti se non sono abbastanza pigmentati diciamo ecco qui mi va di ripetere il fucsia e lo ripeto e l'ultimo c'è un puntino con il fluo e dopo di che scarico il pennello pulisco e tiro qui e vanno avanti pulisco tiro pulisco e tiro per chiudere ok perfetto dopo qui non vi preoccupate perché ci passiamo sopra con il nero per fare il corpo della farfalla quindi non vi preoccupate di niente ecco qui fermo in lampada ovviamente queste reali sono fatte adesso facciamo la laterale la facciamo uguale la fa a quella sopra quindi faccia un puntino puliamo cercate di andare dritti in teoria questo dovrebbe essere dritto questo queste queste righe questo è sinceramente la parte più complicata perché è tanti e pochissimo spazio e quindi è facile che i colori poi si si mescolino senza rimanere molto molto di molto diciamo così divisi ok adesso metto l'ultimo pezzettino di viola di fucsia anzi e poi il tiro subito perché qui veramente lo spazio è super ridotto ok spero che si sia visto prendo il pennello dall'esterno il tiro qui ne faccio poche di strisciate perché ovviamente non c'è spazio infatti vedete che si fa un po fatica su questo piccolo spazio qui però l'importante è far vedere che qualcosa c'è ecco qua e tiriamo pure la parte esterna così chiudiamo ok va bene ripeto non mi preoccupate se non è proprio perfettissimo perché dopo ci passiamo con il nostro nero fermo in lampada ci passiamo con il nostro nero e risolviamo tutto questa è la prima bozza della nostra farfallina per quanto riguarda il nero prenderò un gel paint moira senza dispersione quindi praticamente dopo aver fatto il disegno non avrò bisogno di passare il top su questi gel perché non hanno dispersione e il mio paint bianco di libra nail anche questo senza dispersione allora prendo questo sempre storto prendo l'estrosa artist 1 e comincio a delineare la mia farfalla ciao 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 una cosa molto classica è una specie di otto vedete che qui nel punto di giunzione dove c'è un po di casino per via dei colori che si sono un po uniti io ci metto il mio insettino e passa la paura allora in quelle che ho fatto io insettino a questa specie di pennazze che anche queste sono molto furbe perché come vedete qui c'è una macchetta di colore io le faccio arrivare fino qui e faccio partire l'altro pennazzo facendo così come vedete si coprono parecchie imperfezioni allora vediamo se riesco dare una forma un po più tondeggiante sto testa che ok fermo un attimo in lampada e adesso la cosa più complicata ragazze le antenne le antenne della farfallina che sono complicate facciamo nel nero come sempre facciamo partire questa antennina da qui senza farlo molto molto schifo mi raccomando leggere va bene che il top velour può far cangellare gli errori però cerchiamo di non farli perché le antenne sono la cosa più drammatica ragazze perché questo mi è venuta tanto carina questa non è una schifezza io adesso vi faccio vedere che con questo top si riesce con delicatezza a pulire anche il nero anche solo dice guarda che schifo però vi faccio vedere come pian pianino si riesce a pulire bene anche il nero che imposterà vedete voi eppure non bisogna rendersi a nel senso bisogna stargli a pulire perché comunque comunque l'alone un po rimane però io adesso mi metto un altro po' di e ripasso qui dove c'è un po d'ombra vedete con delicatezza pulisco e mando via tutto l'alone io qui adesso non mi voglio avvicinare più di tanto ecco vedete come si pulisce bene questa cosa qui è impensabile farla con un top mat senza dispersione ripeto o almeno io quello che ho provato di di la fam eppure essendo appunto un ottimo top mat è difficile da gestire per questo tipo di lavori molto complicato ok io mi fermo appena mi viene un accenno di antenna perché ripeto la cosa più difficile di questo di questa nail art sono le antenne della farfallina ecco basta così per carità anche sembra se sembra un coso come si chiama un demonio ci faccio una piccola pallina giusto per far capire che sono antenne ok adesso che abbiamo fatto praticamente il 90% del lavoro andiamo a perfezionare dei piccoli dettagli questo è il top no wipe di la fam lo mettiamo sopra le ali una bella goccetta prendo il pennello estrosa artist 2 e vado piano piano a praticamente perfezionare le ali quindi non serve che passate sulla parte nera perché io nel mio caso ho usato appunto un gel un si un gel paint senza dispersione e quindi praticamente quella parte lì è già sigillata perché il prodotto è autosigillante quindi non serve però se voi avete utilizzato un gel paint con dispersione vi conviene sigillare anche la parte quella parte lì quindi completiamo con l'ala laterale su questo pennello c'è il top no wipe che metterò fino a qui eccolo qua e di nuovo fermo in lampada eccoci ragazzi questo è il lavoro finito guardate che carina questa farfallina adorabile vi faccio vedere anche le altre che avevo fatto l'altra volta queste sono le farfalline che ho realizzato una volta scorsa quando ho fatto il reel con la stessa identica fatemi sapere se vi è piaciuto il video e se mi seguite su instagram semi permanente fai da te official taggatemi se fate lo stessa nail art e sarò felice di vedere le vostre realizzazioni iscrivetevi al canale e lasciatevi un commento vi mando un bacio ciao ciao